bella ragazzi ben ritrovati sul mio canale sono stocchi86italia oggi come vedete vi propongo il mio primo live commentary sul colpo di ultimo del golfe 3 poi ci andiamo subito a trovare una partita faremo vediamo cosa fare fare un tutti contro tutti tutti così alla buona e meglio un bel tutti contro tutti come classe useremo 2vp45 con gioco di prestigio inflessibile pro e predatore pro come classe assalto con con riconosizione avv, predator e ricottero ecco qui a trovare la partita siamo su eldat vediamo un po come va se mi trappa qualche parola ragazzi non vi offendete ovviamente allora 2vp45 2vp45 premetto che da un sacco di tempo ecco qui il mio strozo mi ammazza premetto che da un sacco di tempo mi hanno gioco a male oltre da parecchio tempo ehm ehm vediamo qui qui chi è il mio strozo mi ammazza presto da dietro di nuovo eccoci ragazzi mi ha preso di nuovo il cezzino scusate se mi non ballo tanto ragazzi comunque Ora per te sono al primo prestigio, a livello 43, come vorrete vedere quando sto a spazio una kill, porca puttana. E' un dramma fare i live ragazzi, è come un dramma perché uno deve parlare, poi deve trovare. Volevo fare questa cosa diversa fuori. Mi scudo se la qualità della mia fotocamera non è il massimo, purtroppo è una serbente compatta della Nikon, al momento rispongo solo di questa, quindi perdonatemi ragazzi per la qualità, non so l'audio come sta avendo, spero bene. Ecco qui. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Quattro che ho visto. Ricognizione UAV in attesa. E no, che, che, che è il compagno, il compatto. Ma non ma, vediamo su UAV, dai. Il nostro UAV è online. UAV è individuato. No! Vemilia di merda. Raffanculo. Eccolo. Non lo vuoi ripien. Non lo vuoi ripien. Non lo vuoi ripieno. Ma è un paese, ragazzi. Un'attività è proprio pessima, ma non me ne vede. Il primo mine mi fa piacere farlo. Per cui, ogni tanto posso dire qualche parolina, eh, che non parlo tanto, però spero che comunque questo live vi piaccia, ma vabbè, comunque è proprio difficilissimo fare le live e parlare, non? Sembrava più semplice guardando gli altri youtuber, ma deve dire che è veramente complicato come cosa, ma nasce a me che non ho una cucchia, se no mi sento che lui arriva, non tu mi, fuori, grande, grande. No, no, epic fail. Ah, disgraziati. Epic fail. Annaggia. No, non crepa, non crepa, ragazzi, non crepa. Ci stanno schiacciando. Oh, amene, mi coindividuato. E allora, di no, aia no, 9 e 15, dai, no ma, la mezza, la mezza, la mezza stifetta, ma comunque dai, 9 e 15, dove sei, dove sei, non scappa, no, il pregato, a chi prende, a me, a me prende sto cazzo di pregato. E allora, che gioco, stando sti camperoni, questo cazzo di gioco, è una cosa incredibile, allora. ebbene la partita è finita ragazzi io ho fatto un risultato proprio pessimo 9-18 però spero che vi siate comunque divertiti mia compagnia di più se non ho parlato molto spesso però perdonatevi è il primo value che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando un po' di gentile almeno per l'asforzo ciao a tutti ragazzi grazie